l'alternativa per l'italia è nata da il popolo della famiglia di mario di nolfi e exit di simone di stefano è una unione che è nata per proporre una vera e propria alternativa a quella che è l'agenda drari e noi eh vogliamo farci portavoce di un dissenso popolare e proporre eh delle delle alternative che si basano su valori e libertà questi sono i due binari eh secondo cui eh per noi eh debba ripartire l'Italia dobbiamo far ripartire l'Italia per farla diventare la grande nazione che eravamo. Quali sono i punti del vostro programma, gli elementi focali? Allora eh noi abbiamo cinque punti eh fondamentali. Allora eh il primo punto eh riguarda il sostegno diretto alla natalità. Allora secondo noi la crisi eh della natalità eh è una crisi eh sarà la più grave crisi eh che noi ci troveremo ad affrontare nei prossimi quindici vent'anni e quindi tutto il nostro programma, buona parte del programma, si basa proprio sull'incentivo delle nascite. Mh innanzitutto attraverso uno strumento che è il reddito di maternità che consiste nel dare eh mille euro al mese ad ogni bambino che nasce la cittadina italiana fino al compimento dell'ottavo anno del bambino. Mh noi proponiamo anche eh un incentivo per l'acquisto della prima casa per le giovani coppie under quaranta e soprattutto a livello lavorativo noi siamo ehm vogliamo proporre degli incentivi per la piccola e piccolissima impresa a conduzione familiare. Eh questo significa che vogliamo favorire l'autoimpiego. Faccio un esempio un giovane che eh o anche meno giovane comunque che vuole aprire eh una SRL eh non deve più pagare eh diecimila euro per eh aprire questa attività eh ma eh questi sono a carico dello Stato e eh poi ha una detassazione per i primi cinque anni. Questo può eh favorire la piccolissima impresa che soprattutto adesso eh tra l'altro sta soffrendo con questo caro energia per la quale noi abbiamo una proposta anche molto eh precisa. Lei anticipa la mia domanda è proprio questa c'è questa priorità assoluta no? Del della batteri costi delle bollette. Qual è il la vostra proposta? Seconda alternativa per l'Italia c'è un'unica eh vera alternativa per combattere il caro energia e sarebbe eh quella di riprendere i rapporti diplomatici con Mosca, tornare eh al commercio, aprire di nuovo eh le porte alla allo scambio con la Russia e eh creare una via per la pace. Come d'altronde hanno fatto altri paesi eh prendiamo ad esempio l'Ungheria. ehm noi adesso quello che pagavamo due eh alla Putin eh alla Russia adesso stiamo pagando duecento alla all'America. Ci arriva il gas liquido lo dobbiamo anche rigassificare. Mh questo non significa che noi non siamo aperti a mh all'utilizzo di forme di energie alternative. Noi possiamo ripensare anche al nucleare ad esempio. Mh la legge referendum sul nucleare che ormai è stravecchio quindi si può ripensare a quel tipo di energia. Noi possiamo ripensare a quel tipo di energia.